Parlando di potenza dinamica, non si può non fare riferimento al propulsore. Un motore Deutz 6 litri di cilindrata, 6 cilindri è State 5. Matteo, in che cosa si differenzia rispetto al 7250 TTV? L'8280 TTV ha una potenza massima superiore di 41 CV rispetto al 7250 TTV, garantita da un doppio turbocompressore. Il primo raffreddato ad aria, il secondo a liquido. Matteo, ma per i consumi? Per quanto riguarda i consumi, l'8280 TTV, nonostante l'elevata potenza, riesce a garantire un consumo di 202 grammi per kilowattora. Mi sembra un motore molto pulito ed efficiente. Esattamente, l'intervallo di cambio olio su questa macchina è arrivato a mille ore. Sappiamo quanto è importante la coppia in un motore di alta potenza, in un trattore di alta potenza. Cosa ci dici dell'8280? Il motore Deutz dell'8280 è stato concepito per l'agricoltura. È caratterizzato da una coppia elevata a bassi regimi che arriva a un massimo di 1229 Nm. Ha tutto vantaggio dei consumi di carburante. E il serbatoio? Per quanto riguarda i serbatoi, a livello di carburante, l'8280 TTV raggiunge 505 litri di capienza massima. Mentre per quanto riguarda il serbatoio di Adiblu, fino a 35 litri.